Ciao, sono Cristian Meglio. Ciao, sono Salvatore Miniri. E il nostro sponsor è SD San Giorgio 1926. Buona Mavericks a tutti. Ciao, sono Ciro Oliveiro. Ciao, sono Alessandro Sannino. E il nostro sponsor è Linea Azzurra, un negozio di detersivi situato in via 826. Buona Mavericks a tutti. 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 Buona Mavericks a tutti.